Ed è arrivato, come è anticipato, il momento del nostro gradito ospite, che ringraziamo di essere con noi e che andiamo a salutare. Auguriamo buon pomeriggio a Denis Dianin, chef pasticcere, membro dell'Ampi, che è l'Associazione Maestri Pasticceri Italiani. Benvenuto. Buon pomeriggio, grazie. Grazie di essere con noi. Denis Dianin è con noi in particolare per parlare di una specialità tipicamente stagionale, il panettone, no? Sì, il panettone è sicuramente stagionale, anche se devo dire che comunque da un bel po' di tempo ormai si cerca di stagionalizzarlo come prodotto. In effetti la richiesta inizia ad arrivare perché è un prodotto che se è buono non deve essere buono solo a Natale. È una codifica data un pochettino dell'industria, no? Che viene codificato per le festività e quant'altro, però in realtà effettivamente vediamo che c'è molta richiesta anche nel periodo fuori Natale. Poi sicuramente le festività la fanno, sicuramente è il periodo che la fa la padrona. Sì, anche perché gli italiani da quel punto di vista sono molto tradizionalissimi, no? Cosa che all'estero ad esempio non avviene, perché il panettone all'estero è un prodotto che viene richiesto assolutamente tutto l'anno. Non viene codificato, associato alle festività, perciò... Ah, per cui lei nella sua esperienza sa che anche nel resto dell'anno... Viviamo già con l'estero, perciò... ma anche in Italia, comunque in Italia ormai si sta provando da un po' di tempo. Infatti noi abbiamo lanciato un prodotto dopo una ricerca di sei anni, che ne parlavamo insieme poco fa, di questo panettone nel vaso cottura, ma avremo modo magari di parlarne anche più avanti. Ed è un prodotto che è nato proprio per poter destagionalizzare il prodotto, anche se quest'anno, devo dire, ha avuto un ottimo successo per Natale, proprio come piccolo regalo, pensiero. Senta, panettone con o senza canditi? Perché anche qui ci sono le scuole di pensiero. Qui ci sono le scuole di pensiero, più che le scuole di pensiero ci sono magari le richieste di clienti. Allora, il panettone sicuramente nasce con frutta candita. Cosa ha portato a volte a decidere con o senza canditi è sempre una problematica data da quello che è la qualità del prodotto. Se parliamo di un prodotto di qualità, perciò se va sul prodotto artigianale, il candito viene accettato. Sicuramente tutte queste trasmissioni legate comunque al mondo food in generale stanno aiutando molto a far capire anche, oltre a valorizzare la nostra professione, ma anche a far capire la qualità. E perciò devo dire la verità che in questo momento, in questi ultimi anni, la richiesta del prodotto senza candito è ormai sparita. Anche perché magari, ripeto, una codifica data dall'industria è quella dell'arancio che non piace. Anche se devo dire che spesso e volentieri è più il cedro, che è quello che dà fastidio. Ma effettivamente se il prodotto è fatto bene, è candito bene, è un prodotto morbido, è proprio la scorzetta d'arancio morbida. Piace, piace ai bambini, piace ai adulti senza problemi. E poi voglio dire che c'è anche tante altre tipologie di frutta. Quest'anno per esempio stanno andando molto molto bene con l'albicocca. Ecco, l'albicocca è un prodotto che comunque resta fresco, anche lo zenzero ad esempio, per chi vuole fare qualcosa di un po' più particolare. Però per esempio l'albicocca è un prodotto, o il mandarino ad esempio, no? Vediamo che in realtà la gente ormai lo chiede, anzi non chiede più il senza candito, devo dire la verità, ormai per quello che è il panettone viene codificato così. Vediamo che c'è stato proprio un cambio. Non chiediamo di rivelarlo, ma Denis Dianin ha un particolare segreto per preparare il panettone? Cioè ci sono delle procedure anche che magari variano da chef a chef? Beh, allora sicuramente ci sono, c'è una base che questa vale per tutti, che è comunque per avere un prodotto di qualità ed artigianale, e comunque lavorare in maniera di qualità, lavorando con un lievito madre, che è comunque complesso da lavorare, perché è un prodotto che per quanto lo lavori non lo finisci veramente mai di imparare. È un prodotto vivo, quando qualcosa è vivo cambia, cambia nel tempo, cambia e cambia. Sicuramente è questo, lavorare con prodotti di prima qualità, di prima scelta, e poi saper lavorare il prodotto, sicuramente dato dell'esperienza. I segreti in questo mestiere io penso che non esistano, infatti noi, anche i ragazzi che non mi stanno agendo noi, le ricette le diamo, perché non ci devono essere segreti, i segreti in realtà proprio non ci sono. Ci sono dei piccoli dettagli, dei piccoli metodi che fanno la differenza. Sicuramente l'attenzione, l'attenzione alla lievitazione, l'attenzione al prodotto, l'attenzione al momento del confezionamento, al prodotto, sono tante piccole fasi fatte da tanti piccoli dettagli che fanno la differenza. Senti, ma adesso un panettone che deve essere pronto per Natale, quando è che si comincia a preparare? Allora, beh, la produzione di panettone in realtà, parlando sempre di un prodotto artigianale, dipende sempre da chi lo lavora, come lo lavora, però mediamente possiamo dire che è un buon panettone, ha una durata di circa un mese, un mese e qualcosa. Questo è importante. Non è che dopo non è più buono, assolutamente, però diciamo il suo apice lo raggiunge intorno, entro il mese, dopodiché inizia ad avere una piccola asciugatura. È un prodotto che resta, che è commestibile, che è mangiabile, via dicendo, però non è più come lo si vuole, come lo si vorrebbe, perciò tende, è un prodotto che tende ad asciugare. E questo lo si riconosce proprio nella durata, è un prodotto artigianale, è un prodotto industriale, dove l'industria, utilizzando un mono di gliceridi, hanno un prodotto che dura molto di più, però abbiamo anche il contro. E questo sicuramente. Si inizia, normalmente la produzione inizia pieno, ma pieno pieno tra l'ultima di novembre e i primi di dicembre, a meno che poi non ci siano richieste, poi ognuno adegua la produzione alla propria esigenza anche di produzione, però mediamente è quello. Calcoliamo che un panettone, normalmente, una volta fatto, perché abbia questa rotondità nella parte aromatica, perciò riesca a legarsi tutti gli aromi, comunque ci vogliono tre giorni per farlo e si consiglia di mangiarlo dopo tre giorni, perciò in una settimana dall'inizio ci ottiene già un buon prodotto. Noi ringraziamo Denis Dianin, chef pasticcere, per questi consigli. Il tempo purtroppo è tiranno, ma se ne volete sapere di più, la pasticceria di Denis Dianin è lungo la strada che porta verso Selvazzano, insomma da Padova. Per cui grazie a Denis Dianin.